Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Vodal 2. Bene, siamo in una zona nuova alla ricerca di questo cazzo da liberare. Volevo provare se ci riesco a usare il cecchino. Comunque abbiamo qualcosa da vendere qua. Proprio una zona di atterraggio. Inserisci gli organi donati nel ricettacolo in basso. Sì, non vedo l'ora di fare quello che mi hai detto. Allora, vendiamo un po' di roba. No, in bazooka abbiamo visto che non valgono un cazzo come nell'uno, quindi siamo a posto. Questo andiamo via, questo qui andiamo via, questo 367 ma penso che lo possiamo mettere via. Via, via, via. Questo era quell'altro che posso mettere nella cassaforte, dopo ci penserò. Ah, nella zona, nella cosa, perché comunque è di livello 21. Sì, perché va in base al livello che abbiamo, ovviamente. Quindi potrei anche venderlo, ma adesso lo tengo, dai, non si sa mai. Ok, perfetto, l'inventario è 27, abbiamo 4, ovviamente ne abbiamo 4. E qua invece, vediamo se riesco... Così o meno mi coso, mi sono a posto, se no cavoli, è un bel casino. Non vedo l'ora di dirglielo, guarda. Questo fucile ha 9 di... non è male, eh? 9 di... 9? Non me lo ricordo che sia 9. 9? Beh, non è malo. Con 9 mi sono molto più contento. A quanto pare... Questa cittadella... Sembra essere ben... Oh, questo cos'è? Ecco cos'era. Oh, salve. Oh, mi dispiace tanto. Mamma mia, ma è potentissimo quel coso. Certo che se mi ballassi un po' meno... Toh, ecco qua. Dove che... Qualcosa che mi dia un po' più di stabilità di arma. C'è qualcun altro? Oh, salve. Addio. È stato un piacere. Ci sono anche i robot, quindi. Oh, cavolo, ho sbagliato. Ecco, adesso l'ho preso bene. Robottino, preso da Dio. Dov'è che sei? Eh no, devo aspettare che ti giri un po' meglio. Un po' cazzo. Perfettico. Qui c'è un altro. Vediamo se riesco a prenderlo. Vai! Oh, che cosa è gradita. Altri? Qui ce n'è uno qua. Perdona, mi è saltato in aria. Ok. Me ne è arrivato uno alle spalle, ma è meglio che mi venga davanti. Intanto qua... Sì, attacco a bersaglio. Attacco a sto cazzo. Ok. Non c'è nient'altro? Sì, che c'è tanta gente. Andiamo un po'. Tac. Oh, gli ho fatto saltare... Mi dispiace tanto. E qui ce n'è un altro. Eh sì, è un imbecille. Bene. Direi che li ho ammazzati tutti. Però sento dei rumori strani. Non lo so. Andiamo a vedere se c'è qui. Non c'è niente. Oh, qui c'è qualcuno. Vai! L'ho preso malo. Ma è difficile prenderlo. L'ho preso. Stavo dicendo è difficile prenderlo. Poi l'ho preso. Qui chi c'è? Siccome ho la possibilità di usare il fucile al cecchino, lo vorrei sfruttare. Vediamo un po'. Appunto save. Non vedo altro. Non vedo altro. Quindi carichiamo con molta calma. Prendiamo tutto quello che c'è da prendere. E prendiamoci. Oh, il fucile al cecchino è una svolta comunque in questo gioco. Con tutti i bonus che ho. Poi non ne parliamo. Aia. Cos'è sto coso? Ah, un... Un... Toh! Ah, non posso colpirli finché non posso colpirli. Ok. Ok. Facciamo così. E ciao. Tanti saluti. C'è qualcuno... Ci sono... Non so se si sono trasportati. O è quel coso lì, maledetto, che li crea. Comunque è bello. Ok. È morto. Ah, ma adesso arrivo anche da voi. Non vi preoccupate. Uno qua. Un altro qua. Un altro qua. E adesso pensiamo a quelli che volanti. Sono circa qui. Chi è che lancia le granate? Oh, qua c'è... Uno. Perfetto. Scusate un attimo. Allora ragazzi. Bene. Continuiamo pure. Prendiamo prima tutto. Non capisco se sono infiniti. Devo rompere quei cosi. O no. Però insomma. Vediamo. Non mi fa prendere niente. Comunque sembra che la situazione si sia abbastanza calmata. Mi piace sto posto. È fatto bene. E quindi me lo voglio godere. Allora. Vediamo se esco... Figuriamoci sì. I salti sono un po' bassi in questo gioco. Poi non ne parliamo quando si è in punta. Ok. Vediamo qua. Vediamo un po' che succede. Sì. Questi mi servivano. Questo non ho capito bene. Ah. Ho capito adesso. Ok. Va bene. Tanto aver capito. Ah. Proprio va in cerca dei nemici. Bello. Mi piace. Mi piace parecchio. Allora. Cerchiamo di esplorare bene il tutto. Voglio capire... Questo qui. Cosa sono? Ah. Ho capito adesso. Ci ho messo 30 anni. Però ho capito. Ok. Adesso arrivo. Arrivo. Non vi preoccupate. Olè. Vai. Questo è andato. Quindi posso anche colpirli agli altri. Vai. Andato. Altri? A quanto pare sì. Sì. Lancia questo. Ecco. Gli ho colpito. Devo colpirli ai bracci. Eccolo qua. Infatti. Se colpiscono il braccio. Tu mori lo stesso. Quindi ha più di un punto debole. Toh. Non l'ho preso. Ovviamente. Ok. Andata. Altri? Molto divertente combattere contro questi robot. Toh. L'ho preso male. L'ho preso bene. Altri? Sì. Altri? Oh. Salve. Toh. Ecco. Andata. Poi. Certo che nell'occhio è un critico sicuro. Devo capire questi qua se si possono rompere. No. Non si possono fare niente. Sono immuni. Quindi devo aspettare che gli scarichi tutti. Non ne vedo altri ma ne sento qualcuno. Non vedo. Va bene. Che cacchio. Era un bidone? Devo capire questi bidoni se sono effettivamente prendibili o meno. Va bene. Andiamo avanti. Ah. Questi qua. Guardiamo. Sì. Qualcosa fanno. Mamma mia. Quanta gente c'è. Toh. Una data. Una data. E una data. Perfetto. Esatto. E' una cosa che. Eh sì. Tipo io. Molto molto più avanti. Ok. Non vogliamo andare a vedere qua però. Ok. Eh. Ce ne sono tanti eh. Oh salve. Quindi qua è critico. Ok. Ciao. È stato un piacere eh. È stato molto bello vederla. Toh. Oh no. Ho preso lì. Vabbè. Quindi ti compriamo il braccio. Va bene lo stesso. Qui. Tu vai in cerca di quelli là. Dove sono? Sono là. Vabbè. Almeno così mi fai vedere dove sono. Mi dispiace la cosa. Tac. Eh. Mi dispiace. Poi. Oh ma questo è facile. È molto facile. Oh se hai fatto male mi dispiace. Accidenti. Sto coso. Adesso cerchiamo sto coso. Dove è andato a finire. Non lo vedo ragazzi. Solo cerco io. Ok. Ok. Ecco qui. Questo è andato. Sì arrivo arrivo. Mamma mia come siete postici. Arrivo arrivo arrivo. Ok. Dove sei? Maledetta. Ma tu sei ancora vivo? Porca miserica. Ok. Oh ma ce n'è un altro simpatico e carino. Oh mi dispiace. E qui c'è quello lì. Ah ma adesso è il sale. Non vi preoccupate che lo prendo. Dov'è? Sento che è qua. Ma non lo vedo. Eh no. Così è difficile. Prenderlo. Vai. Preso. Possiamo andare. Ok. È una strage massonica questa. Stiamo ammazzando a destra e a marica tutti. E ne stanno arrivando tanti. Basta reagire. Infatti. Basta reagire. Però. Regisci a questo. A questo. A questo. Sono ubriaco. Oh salve. Tac. Eh mi dispiace tanto. Ok. Altri? Zona nuova. Salvataggio magari no eh. Per carità. Figuriamoci. Cavoli. Eh io devo pensare ai robot. Devo pensare a questi. Devo pensare ai volatili. Devo pensare. Cavoli. Vieni qua. Vieni qua. Ok. Oh salve. Ok. Ok. Carichiamo. Ce ne sono tanti. Salve. Ecco qua. Eccoli qua. Nanno. Perfettico. Adesso altri. Se non avessi il fucile del secchino ragazzi sarebbe un bel casino eh. Toh. Ecco qua. Mamma mia. Toh. Ok. Sì sì gli è piaciuto. Guarda lì come si diverte. Eccolo qua un altro. Ed eccolo qua un altro. Ok. Stavolta l'ho preso nell'occhio eh. Stavolta no però. Vediamo un po'. È normale che questo carica abbia stato in fretta ma non vedo un cazzo. Ok. Chi altro c'è? Oh salve. Eccolo qua. Questo. Oh. Ho preso malo. Vai. Preso. Perfettico. Altri? Sì ce ne sono altri in effetti. Non lo prendo questo vero? Sì sì attiva questo. Ecco qui. È attivato. Bravo. Questo tipo così. Bene. Oh beh dai. Sono in una situazione abbastanza bella. Non so quanti posti ho lasciato indietro. Effettivamente tanti. E i poiettili. Me li dai grazie. Devo prendere un po' di poiettili prima che mi finiscano tutti. Ma 44. Prendiamo bene. Questi non è facile trovarli. Ok dai. Siamo a 56. Questa è prima facile la pompa. Questi non è niente. Devo cercare degli altri perché se no sono merda. Vediamo un po'. Sì sì vado a casa non ti preoccupare. Sto solo cercando munizioni perché insomma ne ho usati abbastanza. Eh qua non c'è niente. Vabbè. Lo vedo. Cioè lo sento o non lo vedo. Sarà qua di sotto tanto. Dove che sia. Eccolo qua. Stop. Ok. Adesso cosa manca? Cosa manica? Eh ci siamo quasi eh. Oh un po' di munizioni. Grazie al cielo. Però non quelle che interessano a me. Qui ci saranno soldi. No non c'è niente. E qua non c'è niente. Per cazzo. Osta questa è bella. Oh. Mod. Questa non mi interessa. Questa non mi interessa. Questa non mi interessa. Questa non mi interessa. Però adesso. Però adesso mi serve assolutamente. Aspetta. Stati. Non vorrei che avrei equipaggiato una mod per sbaglio eh. Ok. No questa va bene. Questa va bene. Guardiamo tutto perché non si sa mai. Ok. A posto. Questa. Oh salve. E sei morto? Accidenti. Ci porterai fuori di qui se te lo dico. Vero Mobli? Ma certo. Sono tuo amico Carson. Dov'è quella cassa? Nelle flette. In una tomba. Allora. Quando scappiamo? Perfetto. Carson è morto. Non mi sorprende. Ho sentito parlare di quel Mobli. Un bandito da strapazzo ma pericoloso. Perfetto. Fai attenzione. Va bene farò attenzione. Non ti preoccupare. Grazie della gentiletta. Ecco qua. C'è che gli è piaciuto ma secondo te non gli è piaciuto. Dai insomma sì. Ecco qua. Ok. Dobbiamo andare da quello là. Che è di qua. Qui naturalmente non posso prendere munizioni. Perché li ho prese tutte. Non c'è niente. E beh è stata abbastanza facile questa zona. Tutti i robot. Quindi cecchino l'ha fatto da padrone. Lo salve. Sì sì adesso arrivo anche da loro. Non vi preoccupate. Sì salve. Adesso ho uno scudo così grande. Che posso permettermi anche di. Insomma. Mi posso permettermi anche di. Di fare. Polo spavaldo. Ecco qua. Questo è andato. Questo è andato. Questo è andato. Questo è andato. Eh vai. Troppo bello. Ci sono quelli che volano. Che sono una bella ruotura di palle. Ok. Qui ce n'è un altro. Da qualche parte. Ancora un altro che vola. Ancora un altro che vola. Accidenti. Accidentaccio. Non lo vedo. C'è uno zoom veramente grosso questo. Ma arriverò a prenderti eh. Ti preoccupare. Non lo vedo. Ma porca miseria. Quel fumo mi ha. Tratti l'inganno. Ok. Andata. Bene. Possiamo andare tranquillamente a uscire da qua. Prendiamo un po' di cose. Però adesso ma. 101 ma. Proprio miseria. E vediamo un po' cosa possiamo fare. Ok grazie. Molto gentilo. E ci siamo. Così vedo anche un po' di cose. Me ne tocca un po' dei maroni. Chi c'è? Volevo prendere questi. Scusate. Oh salve. Sì sì. Guarda. Così. Siamo a posto. E così. Ok. Adesso che lo so. Faccio un voto prima. Ok. Questo no. Grazie. E qui. Dobbiamo andare solo di qua. Qui abbiamo preso tutto. Beh. È stato veramente facile. Ne sono meravigliato. Ok. Vediamo qua. Sì. Come no. Bene. Meno male che te ne sia assicurata. Così almeno siamo a posto. Sono sicuro che lo rifaremo abbastanza presto. Eh. Non vedo l'ora. Guarda. Ok. Usciamo pure da qua. E andiamo nella polvere. E poi ci salutiamo. Dai. Facciamo così. Almeno siamo a posto. E siamo a posto. Allora. Dove devo andare esattamente? Quanto lontano mi fai andare? Parecchio. Bene. E anche tanto alla fine. È una passeggiata abbastanza veloce. Andiamo. In fondo è una zona così. Posso andarci anche col catch a ride sperando di non far danni? L'ultima volta li ho fatti. Eccoci qua. Catch a ride. Sì. Però mi servirebbero. Gentilmente. Ok. Munizioni. Catch a ride. Vediamo questo perché mi piace. Mettiamo questo perché mi piace. Questo. E questo qua. E siamo a posto. Allora. Oddio. Già mi sono messo in malora. Dove devo andare? Beh. Non è tanto lontano. In fondo è di qua. Sì. Sì. Te spara pure tranquillamente. Che io mi faccio la mia pera strada. Pace e tranquillità. Che non c'è nessuno. Ok. Vediamo se è la zona giusta. No. Come al solito. Sbaglio strada. Perché figuriamoci se io non sbaglio strada. Non riesco a perdermi ovunque. Ok. E qua. E di qua non si può andare? Ma perché mi dici che devo andare qua? Che poi qua non posso fare niente. E adesso come ci arrivo di là? Devo fare il giro della miseria. Mi sembra ovvio no? Che devo fare un gran giro. Ok. Mi è piaciuto? Oh. Mi dispiace tanto. Eh sì. Mi dispiace tanto. Ok. Andiamo pure. Anche di qua facciamo presto. Col che c'ha ride. Ok. Vediamo un po'. Ci andrò a piedi. Come al solito insomma. Ma questo è il garage di Ellie. Io da qui non posso andare. A meno che tu non ci mi dai una strada particolare. Ma dubito. Vediamo un po'. Devo capire dove andare. Perché non è chiaro. Magari da Ellie posso andare da qualche parte di qua? Sì. Posso andare da qualche parte di qua. Vabbè. Ci vado a piedi dai. Tanto è uguale. Qui c'è da finire una quest. La faccio veloce. Con quest'arma qui. Non questa grazie. Quell'altra. E così siamo a posto. Così se vengono quei vermini lì. Facciamo anche quella. Perfetto. Ah mi sa che comunque quel che c'era. Non so se ci passavo qua. Può darsi di sì eh. Ok. Vediamo. Tante belle cose. Oh ecco. Così almeno la finiamo questa. Questa. E siamo a posto. Così. Eh. Ti formi. Chi eri re. Ah questo è il re. Ecco perché. Ecco vedete. Eh. Oh. Ma c'è ancora. Sei ancora vivo? No. Ce n'è un altro. Basta. Ok. Altri. Salve. Quanti siete voi? Ok. Carichiamo. Ma c'è proprio tanti. Ok. Basta. Ok. Tanto questa parte della quest l'abbiamo fatta. E sono abbastanza contento. Perfetto. Carichiamo. Dai. Un sassolino non riesci a saltarlo. Mamma mia che tristezza. Ok. Andiamo qua. Dovremmo essere praticamente arrivati. Oh cavolo. Non c'è. Va bene. Aspetto che arrivino un po'. Perché se no qua facciamo veramente notte. Ok. Questi non devo più ammazzarli. Morici. Nero. Un po' le scatole. Ok. Vai. Morici. 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 Ok. Morto anche quello. Beh. Vedete che faccio. Dei gettoni. Quindi alla fine è buono. Perché dovrei leggere. Ma. Faccio prima ammazzare tutto quello che trovo. E poi dopo. Quello che rimane. Provo a farlo. Perché se no è un casino. Ok. Ci siamo ragazzi. Dovremmo esserci. Ok. Questo. Questo è il correre. Quanti devo facciare il re? Mi sembra 10. Ok. Non me ne da più. Quindi vuol dire che questi qua sono a posto. Però intanto facciamo questi eh. Contaminato. Contaminato. Però non vedo. Che sia morto. Ma ne vedo tanti comunque. Adesso facciamo così. Quindi siamo a posto. È contaminato. Però quello è continuare a essere vivo. Ok. Andate. Sono contento. Posto? Posso andare? Grazie. Molto gentile. Siamo arrivati. Dai. Dovemmo fare solo un giretto. O devo andare qua? No. Qua non penso che mi faccia andare. Ma. Oddio. Veramente sì. No. Non c'è niente. Pensavo che ci fosse una caverna. invece non c'era niente. Oh. Soldi. Grazie. Andiamo pure. E siamo arrivati. Meno male. Non ce la facevo più. E vediamo un po' cosa fare. Cosa ci sarà qua? Devo trovare il nascondiglio. Quindi qui trovo soltanto cose buone. In teoria sì. Va bene. Andiamo pure. Tanto ormai siamo arrivati. Se il nascondiglio è come quell'altro. Che arriva un sacco di gente. È meglio che mi preparo eh. Che non è più un nascondiglio che dobbiamo trovare. Ok. Boot Heal. Ok. Questo mi può servire. Qui carichiamo. Siamo già carichi. Ecco qua. Siamo arrivati. Adesso chi salterà fuori. Tanta gente vero? Allora. Qui dice che è qua. Restate lontani dalla carovana gente. Mi porta la luce il bottino. Mi porta la luce il bottino. Ci deve essere qualcosa che mi sfugge. Probabilmente sì. Allora vediamo un po' di prendere queste cose qua. Andiamo un po'. Andiamo un po'. Non c'è niente. Ecco non c'è un modo per riuscire a salire. Che sia questo. No non penso. Ok. Questi sono mod che non sono per me. Commando. Psycho. Assassino. No. Niente di che. E come lo riporto la luce questo scudo? Il posto è questo. Vedo che non sia qui. Ma no. Eh eh. Oh salve. C'era scritto cerca. Ok. Sono ore che aspettavo in quella chiesa che qualcuno la tirasse fuori. Nel caso ci fosse una trappola. Ora dai qua. Lontani dal malloppo banditi. Merda cacciatore. Hai portato qui quello stronzo dell'Iperion. E dove? Voi banditi mettete giù le armi e allontanatevi dal bottino. Ora. Ho un'idea migliore stronzo. Estraiamo tutti al terzo rintocco della campagna. Costallo alla trussicana? Bene. Cosa devo fare? Devo uccidere lui? Estrarre. Vabbè. Cazzo cazzo cazzo. Sì sì adesso tocca a me però eh. Ok. Ho estratto va bene? Cavolo gli ho cacciato una sivella che l'ha sentita per molto tempo. Quattrocento. E adesso il nostro bottino. Ok. La miseria. Quanta roba mi è uscita. Ricompensa. Congratulazioni. Spero che le userai meglio di me. Aumenta l'esperienza ottenuta uccidendo i nemici. Eh questo sarebbe interessante per salire più in fretta eh. Allora vediamo un po'. Questa non mi interessa. Questa non mi interessa. Andiamo di prendere qui. Oh così abbiamo preso tutto quello che non serviva. Questo. Eh questo non era male ma insomma sì. 58 per 5. Abbiamo di meglio. Mamma mia quanta roba però ci ha dato. Eh beh non è stato male la cosa. Pensavo qualcosa di diverso. Però insomma sì. Bene ragazzi io direi che abbiamo fatto anche questo. Dopo faremo le prossime. E per adesso io vi invito alla sala. Like al commento se vi piace la serie. E fammi sapere cosa ne pensate. E per adesso vi invito. Salute alla cima. Ciao ciao.